Ciao a tutti cari amici, bentrovati in un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Andiamo a vedere chi è la vostra anima gemella, quindi che caratteristiche ha, dove si trova, cosa sta facendo, chi è. Andiamo un po' a vedere le energie vostre, di chi guarda il video. È un'interattiva variante unica, quindi ricordo che se sentite che la situazione non c'entra nulla con voi, forse non c'è un messaggio da ascoltare per questa volta. Andiamo un po' a vedere quali sono le vostre energie in questo momento. Siete delle persone che stanno cercando di dare a se stesse, quindi potreste aver cambiato look, fare molta attenzione per esempio alla forma fisica, state amando voi stesse, cercando un equilibrio interiore con voi stesse, quindi migliorarvi esteticamente ma anche interiormente. Quindi potrebbe essere anche che per esempio state facendo, non so, un corso, oppure vi state documentando su qualcosa in particolare che vi interessa, state dedicando del tempo per voi. Vediamo chi sono le persone che stanno guardando un video. Qui riemerge l'aspetto del percorso, anche formativo, ok? Ma non è detto, potrebbe essere che state facendo una dieta dimagrante. Quindi un percorso che sarà lungo e dovrete avere pazienza, quindi state avendo molta pazienza, perché la situazione non è facile, questo cambiamento comporta dei sacrifici, delle fatiche, anche se in un certo qual modo state cercando di prenderla in leggerezza, ponendomi un obiettivo personale. Vediamo ancora chi è che guarda il video. Qui ci sono delle paure, una chiusura un po' in se stessi. Molte di voi potrebbero essere in crisi, perché sentono fortemente la solitudine qui. C'è un sentirsi in gabbia e un po' imprigionati. Come potrebbero essere paure che riguardano magari la persona a cui volete bene? Paure a livello generale. Andiamo a vedere che altro. Abbiamo qui delle persone estremamente, con una forza molto importante. Qui siete persone che non mollano, tenaci. Volete raggiungere quello che vi siete prefissate. Siete in potere, nonostante queste paure, molto probabilmente qua c'è un'altalenanza. Vi pervadono a volte, magari di notte, di sera, quando andate a dormire, fate dei pensieri che un po' vi spaventano. Le scelte che avete preso o che dovete prendere vi creano un po' di ansia, ma siete comunque delle persone forti, delle persone che hanno il mondo in mano, che possono ottenere quello che vogliono. E qua abbiamo la carta dell'abbondanza. Quindi avete tutto quello che di fatto desiderate. Forse non ve ne rendete conto, ma sappiate che avete tutte le carte in regola per ottenere quello che volete. in tutti i sensi e in tutti i modi. Qua riemerge di nuovo l'aspetto dello studio, del percorso formativo. Qua c'è proprio un analizzare, uno studiare, un formarsi anche intellettualmente per poter arricchire la nostra interiorità. Andiamo a vedere chi è la persona, la vostra anima gemella. Allora, che persona è innanzitutto? L'anima gemella di coloro che guardano il video. Che persona è? Sicuro è una persona qui che è sognatrice. Abbiamo un uomo, una donna molto dolci, con molti sogni, molte aspettative nella vita. È una persona che probabilmente sta facendo un percorso e che arriverà qui per molti di voi non lo conoscete ancora. È una persona forse che è distante da voi e sta facendo anche lei un percorso personale che lo porta, diciamo, dovrebbe portarlo da voi al più presto. Vediamo chi altro emerge. Qui abbiamo una persona che al momento è chiusa in se stessa, potrebbe essere una persona bloccata, quindi non escludo che qui possa essere anche un uomo, una donna che magari hanno anche le relazioni, ma non è detto. Ricordo che potrebbe essere anche blocchi di varia natura, quindi l'aspetto lavorativo, familiare, magari ci sono dei genitori, anche dei figli. Comunque questa persona al momento è in una situazione di stasi. Ovviamente qui per moltissimi di voi, ricordo, non lo conoscete per ora, vediamo se poi escono altre carte, perché naturalmente siete tanti, però è una persona che probabilmente sta anche facendo un percorso personale con questa strada che giunge verso il paese, perché appunto qui lo vedo in fase di riflessione con queste montagne. È un blocco che questa persona deve superare, può essere un blocco materiale, pratico, quindi all'interno della sua vita, ma potrebbe essere anche un blocco derivante da se stesso, da delle confusioni che questa persona ha sul proprio stato d'animo, sulla propria emozione, sulla propria vita. Vediamo chi è la vostra anima gemella ancora. Che persona è? Sì, qui è una persona che si è isolata, affettivamente parlando, è un uomo, una donna probabilmente che potrebbe vivere anche in una casa di montagna, per dire qui, ma per alcuni di voi è anche una persona che forse ha un ruolo importante, lavorativamente parlando, una carriera anche stabile, potrebbe avere a che fare con la giustizia, per alcuni di voi, potrebbe avere a che fare con un ente, un istituto, qualcosa che magari forse frequentate, nel senso che qui non la conoscete bene, però potreste averla attorno, cioè potrebbe essere una persona che magari vedete quando andate su un qualche istituto, su qualche ente particolare, o comunque se avete a che fare, per esempio, con avvocati o questioni legali, potrebbe essere che la vedete o per esempio in uno studio legale, in una scuola, in un'ambientazione dove c'è istituzionale, ecco non mi veniva il termine, quindi però comunque questa persona al momento è comunque bloccata, sta di fatto che caratterialmente non è una persona comunque molto aperta, è una persona piuttosto che sta bene da sola, per i fatti propri, insomma andiamo a vedere chi è questa persona. Ah qui abbiamo una donna o un uomo che possono amare molto la natura, qua ricordo che qua emerge moltissimo la montagna, la natura, la vita campestre in mezzo alla campagna, anche magari vicino all'acqua, questa persona potrebbe abitare o potreste averla anche vista, è una persona a cui piace la tranquillità, la serenità, è una persona pacifica, pacifica, scusate, calma, serena, è una persona che cerca un equilibrio interiore continuo, e riemerge l'aspetto di questa montagna che questa persona forse sta riflettendo al momento, è un uomo o una donna che hanno bisogno di trovare una serenità, un equilibrio. Andiamo a vedere ancora chi è questa persona, qui abbiamo proprio una persona chiusa, l'orso è un uomo che può essere protettivo, può essere comunque robusto a livello fisico, molto un po' forse tozzo, qua ritorna sempre la montagna, questa persona secondo me abita in montagna, o l'avete conosciuta in montagna, o la conoscerete in montagna, per alcuni di voi. Qua potrebbe essere una persona che un po' si impone, ha un carattere forte, senza dubbio, un po' a volte non si rende conto, forse che potrebbe essere un po' grezzo nel parlare, nel comunicare, fa fatica a esprimere se stesso, fa fatica a comunicare le proprie emozioni, ed è una persona che potrebbe risultare un po' fredda, ma in realtà ha il cuore tenero, è una persona estremamente protettiva. Qui per alcuni di voi vi scrivete con questa persona, quindi potrebbe essere una persona con la quale avete a che fare, non è detto in ambito delle amicizie, ma anche una persona con cui vi scrivete via mail, via messaggi, andiamo a vedere ancora chi è questa persona, chi è la persona, l'anima gemella, delle persone che guardano il video, chi è? Qui c'è una persona che è confusa al momento, probabilmente sta proprio facendo un percorso, qua riemerge la strada per l'ennesima volta, è una persona che sta chiarendo dove vuole andare probabilmente, perché non ha ancora l'idea chiare, potrebbe aver fatto un taglio con il passato, aveva fatto un cambiamento improvviso, ma anche potrebbe essere un trasferimento improvviso, vediamo chi è questa persona ancora, chi è la mia gemella di coloro che hanno scelto, è una persona che ama la famiglia, che vorrebbe un rapporto stabile, ufficiale, è una persona che ha un carattere comunque sereno, tranquillo, è una persona che dà sicurezza, questo è un uomo, una donna, molto sicuri di sé, quindi è una persona che quando prende una decisione va, parte e va, qui c'è il desiderio proprio di di creare un nucleo familiare, di avere una casa, una famiglia, un luogo in cui proprio costruire qualcosa, e questa persona ha tutte le intenzioni di andare verso quell'obiettivo, nonostante queste riflessioni che riguardano probabilmente dei suoi obiettivi, dei suoi sogni o delle sue, un suo equilibrio psicofisico, ma questa persona comunque qua riemerge la strada per parecchie volte, una qui, qui, dopo la ce l'abbiamo qua sul cavaliere e anche sulla casa e sulle nuvole, questa persona sta andando verso una direzione ed è, l'intenzione sua è quella di avere un rapporto stabile, una famiglia, sta cercando una donna, un uomo con cui poter avere un rapporto stabile, importante, deve risolvere delle questioni al momento, potrebbe essere anche impegnata con un'altra situazione, ovviamente qua le carte non me lo specificano, però potrebbe darsi che per qualcuno di voi magari in un rapporto in cui ci sono dei litigi, ci sono dell'incomprensione dei problemi. Con questo video ho concluso, vi do un abbraccio grandissimo, vi aspetto con i prossimi interattivi.